Scegli un giardino e assapora la vita. E' previsto per domani, venerdì 26 maggio, uno sciopero generale indetto dall'Unione Sindacale di Base con l'adesione di USBPS e Fisi per l'intera giornata. Rappresenta un passaggio importante, si legge in una nota di ramata, per la ripresa delle rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia. Dentro un'economia di guerra, sia quella in Ucraina, sia quella scatenata dal governo Meloni contro le fasce più povere e deboli. Lo sciopero, che non interesserà i servizi essenziali delle zone dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione, coinvolgerà i settori pubblici e privati. In particolare, per quanto riguarda i treni, Trenitalia ha fatto sapere che ci potranno essere ritardi e cancellazioni tra le 9 e le 17, ma saranno garantiti i treni a lunga percorrenza. Stop anche ai treni Italo, che sul suo sito ha pubblicato la lista dei treni garantiti. Per il trasporto pubblico locale è previsto lo sciopero di bus tram e metropolitani in varie grandi città, tra cui Milano, Torino, Napoli e Firenze, con la previsione comunque di fasce di garanzia.